Ciao, in questo video voglio condividerti un utile risorsa che utilizzo abitualmente per trovare la velocità, il BPM delle canzoni. Ci sono anche dei siti che lo fanno, ad esempio questo songbpm.com tu vai a cercare il titolo della canzone e ti scrive a che BPM è stata registrata. Però questo Live BPM è un'applicazione per telefono ed è molto molto comoda per trovarla al volo quindi basta che apro l'applicazione non ha tasti, non ha niente, faccio partire una canzone qualunque e io so che ha 105 BPM lui poi mi mette uno storico quindi qua andando avanti nel tempo fino a 5 minuti posso anche zoomarlo. A cosa mi serve questa cosa? Nelle prove, quindi un utilizzo che puoi fare è quello di portarlo in sala prove se hai dubbi che il tuo batterista corra o rallenti allora durante le prove lo metti lì, lo attacchi, lui utilizza il suo microfono registra tutta la canzone segnandoti a che BPM vi siete mossi. Questa secondo me è una risorsa utilissima per appunto avere la consapevolezza dell'andare a tempo. Ok, grazie mille, tu la conoscevi, fammelo sapere qua sotto nei commenti se hai delle altre applicazioni interessanti o che fanno la stessa cosa fammelo sapere qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Grazie mille, a presto, ciao! Grazie a tutti! Grazie.